Abbiamo uno strumento in più per proteggerci, la scelta di non vaccinarci fino ad oggi non era stata dettata da congetture, paure, ma semplicemente da la non volontà di vaccinarmi. Ho sempre mantenuto quelle che erano le regole di base per prevenire il contagio, mi sono assolutamente privato di qualsiasi forma di vita sociale ed è un qualcosa che avrei fatto sicuramente anche se mi fossi vaccinato con doppia dose con i vaccini precedenti. Non è un qualcosa che ti avrei di punto in bianco abbandonato. Oggi che mi sono vaccinato sicuramente continuerò a mantenere le stesse regole di base. Come non andavo a chiudermi in un ristorante al chiuso una settimana fa o come non l'avrei mai fatto qualora mi fossi vaccinato precedentemente non lo farò di certo neanche oggi.